Sì, oggi inauguriamo dei nuovi laboratori, del cosiddetto polo tecnologico. Sono laboratori importanti perché rafforzano il nostro potenziale di ricerca scientifica e il rafforzamento del potenziale di ricerca scientifica ha, da una parte, effetti benefici sulla didattica che noi realizziamo all'interno dei nostri dipartimenti, dei nostri corsi di studio, ma anche sul territorio. Noi non concepiamo l'università come un luogo chiuso nel quale sono asserragliati le università. L'università è un luogo aperto, un luogo che vuole essere promotore e protagonista e soggetto collaborante con altri soggetti per promuovere lo sviluppo del territorio.